Buonasera, ben trovati alla seconda edizione del TG6 che apriamo ovviamente parlando della tornata elettorale di ieri con un'ampia pagina dedicata proprio alle elezioni che si sono ottenute anche nella nostra regione, in particolare in 72 comuni diversi, i centri importanti in cui si è votato. Partiamo dalle conferme, andiamo a Francavilla al mare dove il sindaco uscente Antonio Luciani governerà la città anche per i prossimi 5 anni, una vittoria netta dell'esponente del partito democratico che ha vinto al primo turno, vediamo. Antonio Luciani si conferma sindaco del comune di Francavilla al mare, per il primo cittadino uscente si è trattato di un vero e proprio trionfo andando al di sopra del 65% delle preferenze. Appoggiato dal partito democratico e da altre quattro liste civiche, Luciani ha lasciato le briciole ai tre sfidanti, il candidato del centrodestra Pantaleone Alessandro Mantini supera appena il 15% e precede di quasi due punti Livio Sarchese del Movimento 5 Stelle. Ancor più distaccato, appena al di sotto del 6% Stefano Di Renzo, sostenuto da Abruzzo Civico e altre due liste. Luciani può così proseguire il suo percorso amministrativo iniziato 5 anni fa. Questo il commento del confermato sindaco e dell'assessore regionale Silvio Paolucci. Noi accogliamo tutti a braccia aperte perché non vogliamo, non siamo di quelli che vogliono fare i presuntuosi, ma anzi c'è bisogno dell'aiuto di tutti, siamo qui, siamo disponibili al dialogo, lo siamo sempre stati. Ultimissima, Luciani a chi dedica questa vittoria? Beh, alla mia famiglia principalmente che mi sopporta da 5 anni e mi dovrà sopportare per altri 5, i miei colleghi di lavoro che dovranno fare a meno della mia presenza quotidiana e soprattutto uno splendido gruppo che si è creato in questi 5 anni, che si è cresciuto con queste ultime elezioni, quindi veramente insieme siamo Francavilla che è il nostro slogan. È un risultato che viaggia intorno al 70% e io credo che abbia premato un ottimo lavoro svolto dal sindaco Luciani e dalla sua squadra in questi 5 anni. A questo punto la domanda è d'obbligo, ne parlavamo anche con altri ospiti che abbiamo ascoltato prima, è stato fondamentale ricucire quella frattura che si era creata qualche tempo fa qui a Francavilla. È stato molto importante quel passaggio ma certamente è stato determinante il lavoro svolto da Luciani in questi 5 anni, onore al merito no? Passiamo alla provincia di Teramo, in particolare a Roseto degli Abruzzi dove si andrà al ballottaggio sconfitta invece Rosaria Ciancaione, sostenuta da Abruzzo Civico e da altre 5 liste. Al ballottaggio vanno il sindaco uscente Enio Pavone del centro-destra e Sabatino Di Girolamo del centro-sinistra. Vediamo il servizio e la scheda curata da Elisa Leuzzo. A Roseto degli Abruzzi il candidato sindaco più votato è Sabatino Di Girolamo che ha ottenuto un consenso del 35,95%, quindi arriverà al ballottaggio con un leggero vantaggio sul sindaco uscente Enio Pavone. Sconfitta invece Rosaria Ciancaione che ha ottenuto il 29,13% dei consensi. Il candidato sindaco del centro-sinistra, Sabatino Di Girolamo, non è sorpreso per il risultato ottenuto e ringrazia i rosetani. Non nascondo che non sono rimasto completamente sorpreso dal risultato. Ringrazio naturalmente tutti coloro che mi hanno votato e questo ancora di più mi fa sentire onorato e onerato perché sarà una grande responsabilità quella di fare il sindaco con una fiducia così grande sulle spalle. Spero che fra 15 giorni mi confermino questa fiducia e darò tutto me stesso a questa città proprio perché mi ha dimostrato affetto, fiducia, stima. Si aspettava questo testa a testa? Diciamo che sostanzialmente era prevedibile, ovviamente ognuno di noi pensava e diceva che si potesse vincere tutti e tre, lo dicevano, che si potesse vincere al primo turno, però diciamo che visto il risultato importante che ha avuto anche la Ciancaione perché ha preso più di 4.000 voti e quindi un risultato anche che va oltre quello che si pensava potesse avere e anche un'affluenza anche maggiore rispetto alle previsioni. Personalmente come commenta questo dato dopo 5 anni di amministrazione? Personalmente ripeto è un dato incoraggiante perché comunque dopo 5 anni difficili e con due super corazzate perché qui si sono schierati, qui a Roseto, i due deputati della provincia di Termo a tre deputati al Parlamento italiano. Sostanzialmente è quello che nelle previsioni generali poteva essere. Rosaria Ciancaione non andrà al ballottaggio ma vista la candidatura messa in piedi nel giro di soli due mesi, è un ottimo risultato questo? Ma sì, è un ottimo risultato, ovviamente speravamo di arrivare al ballottaggio perché pensavamo che poteva essere un risultato alla nostra portata in realtà. Ci siamo. Abbiamo sfiorato perché alla fine a occhi e cross sono mancati 700-800 voti. Insomma, sì, è un risultato sicuramente soddisfacente ma io avrei sperato di andare al ballottaggio. Ci sarà un apparentamento? Ma guardi, adesso noi abbiamo sicuramente impostato un discorso di partecipazione, di coinvolgimento di tutti, quindi adesso intanto più che pensare a quello che succede adesso con il ballottaggio pensiamo a rimettere a posto le cose, a vedere un attimo cosa vogliamo fare per il futuro e a costruire soprattutto una classe politica nuova. In questa ampia pagina dedicata alle elezioni ora parliamo di quello che è accaduto a Lanciano, altro grosso centro abruzzese. Qui, anche come a Roseto, si andrà al ballottaggio. Ci saranno nel secondo turno, tra due settimane, si affronteranno in questa nuova sfida elettorale il sindaco uscente Mario Pupillo, rappresentato e rappresentante del centro-sinistra che ha ottenuto il 39,5% e l'esponente di centro-destra Enrico D'Amico che ha ottenuto il 37,9%. Vediamo il servizio. È un testa a testa tra centro-sinistra e centro-destra. Da un lato il sindaco uscente Mario Pupillo che dalla sua parte può contare sul Partito Democratico e quattro liste a sostegno e dall'altro Enrico D'Amico con la sua lista civica Nuova Lanciano, appoggiato da Forza Italia, Noi con Salvini, Fratelli d'Italia, Unione di Centro e altre tre liste civiche. Un dato che apre già lo scenario del ballottaggio con il capitolo Apparentamenti. È infatti Tonia Paolucci con la sua lista civica, oltre a Casa Pound e altre due liste, a diventare il fondamentale ago della bilancia con il suo 22%. Boccia il centro-sinistra perché non ci dimentichiamo che cinque anni fa l'amministrazione attualmente in carica aveva riportato il 60%, oggi registra poco intorno al 39% e quindi è chiara la volontà dei lancianesi di cambiare amministrazione. Si parlerà anche con la Paolucci? Sicuramente, ripeto, adesso ragioniamo sui numeri e poi si faranno valutazioni. Intanto io non penso che la Paolucci si possa annoverare nel centro-destra. Ha avuto un buonissimo risultato, è una lista civica che si pone al di là dei partiti, ha presentato punti programmatici anche importanti, per cui mi auguro che si apra un confronto per vedere un po' come poter, diciamo, catturare questo elettorato che è un elettorato molto sensibile, diciamo, con un senso civico molto alto. Mi fa piacere che ora i due si sono resi conto, diciamo, di questo risultato, perché durante la campagna elettorale dicevano ben altro, il contrario. Veramente ci sono delle ruggini con Forza Italia e con il centro-destra, quindi è impossibile pensare a un apparentamento? No, no, qua non parliamo di ruggini. Il problema è praticamente nato che noi abbiamo fatto una scelta ben precisa che viene da lontano, diciamo, da lontano 2012, quando abbiamo iniziato a mettere su questo gruppo civico e noi ci siamo posti come alternative e come cambiamento. Una menzione poi va fatta sulla lentezza dello scrutinio, che ha attirato l'attenzione di tutti, montando anche diverse polemiche. L'introduzione della doppia preferenza di genere ha causato non pochi problemi per gli elettori che hanno spesso espresso un voto nullo e dall'altra gli scrutinatori, che hanno in alcuni casi dovuto ricontare le schede per errata interpretazione. Alle 8 della mattina solo 11 seggi su 44 erano stati scrutinati ufficialmente. Le difficoltà sono state appunto questo voto di genere, ci sono state tantissime schede nulle, comunque i presidenti si trovano in difficoltà nello scrutinare e speriamo che riusciamo, siamo ad 11 soltanto e sono le 7 di mattina, siamo qui da ieri. Abbiamo mandato anche i nostri colleghi qui del Comune a poter supportare i presidenti, gli scrutatori, qualcuno si è sentito male. E noi ci spostiamo a Vasto dove anche in questo caso ci sarà un ballottaggio tra gli esponenti di centrodestra e centrosinistra. In particolare da una parte ci sarà Massimo Desiati, candidato del centrodestra, ex assessore regionale che ha ottenuto 8.426 preferenze con una percentuale del 34,3%. Dall'altra parte ci sarà Francesco Menna, esponente del centrosinistra, con il 33,3% dei voti e 8.188 preferenze. È stato un risultato che mi soddisfa tanto e soddisfa la coalizione di centrosinistra e mi sento quindi in dovere fin da subito di ringraziare il lavoro, l'impegno di tutti i candidati, del popolo vastese che ci ha promosso e di tutte le persone che si sono strette intorno a questa squadra e a questa competizione elettorale. Faccio il benvenuto a Ludovica Ceri in Consiglio Comunale e gli auguro sicuramente buon lavoro e se le cose dovessero andare bene gli chiedo di aiutarci a costruire quella famosa Smart City che abbiamo condiviso durante i confronti, oltre agli altri punti programmatici che ci vedono in comune e ci vedono in adesione. Cesco Menna è rappresentante di un'amministrazione uscente, vale a dire un'amministrazione che è entrata con una percentuale ben più alta del 32,91%. Quindi la nostra cittadinanza, l'elettorato vastese ha sonoramente punito l'amministrazione uscente. Ora si tratta però di costruire, si tratta di costruire un'alternativa seria, concreta, solida affinché la nostra città finalmente possa riprendere un determinato percorso. Dovremmo ancora vedere la composizione del Consiglio Comunale, le strategie da adottare, resta il fatto però che il dato elettorale ha premiato tutti quanti coloro che elettori o candidati non si sono riconosciuti nell'amministrazione uscente. E noi restiamo in provincia di Chieti, ci spostiamo a San Giovanni Teatino, centro cerniera tra Pescara e Chieti, importante anche la zona industriale proprio di San Giovanni Teatino e nella cittadina che si trova appunto in provincia di Chieti. La vittoria è andata al sindaco uscente Marinucci, vediamo. San Giovanni Teatino conferma la sua fiducia a Luciano Marinucci, sindaco uscente che a queste elezioni si è trovato a sfidare due avversari. Da un lato Verino Caldarelli con Insieme PD e dall'altro Mario Cutrupi del Movimento 5 Stelle. Vince con il 52-82%, una vittoria che si palesa quasi subito dopo le prime 2000 schede, oltre 1000 vedevano il nome di Marinucci, 650 quelle di Caldarelli e poco più di 300 per Cutrupi. Cinque anni di lavoro comunque hanno prodotto per noi un ottimo risultato in termini di sostenibilità. Gli elettori lo hanno compreso e questo mi fa molto piacere perché noi in questi ultimi anni abbiamo cominciato a lavorare anche sulla mentalità del paese, rendere più consapevoli e responsabili di quello che è un'attività amministrativa, di chi li rappresenta, ma anche delle risorse che noi amministriamo. Un mandato portato a termine ed ora il pensiero va già ai nuovi obiettivi per la città. Al primo posto, dice il sindaco, la vivibilità. Stiamo lavorando nella direzione di dare un po' più di tranquillità alle famiglie, servizi, dobbiamo spendere 11 milioni di euro che abbiamo in banca e stiamo lavorando per dare un'opportunità di lavoro attraverso il rilancio dell'edilizia, in primis, ma anche dell'attività commerciale perché con un nuovo piano di riassetto commerciale adesso avremo la possibilità di far nascere altri quattro insediamenti anziché otto, quindi diciamo che abbiamo lavorato su questa linea. Proseguiamo con questa ampia pagina dedicata alle elezioni, con una notizia perché a Fraine e Tufillo, piccoli comuni del Vastese, dove si è votato per il rinnovo del Consiglio Comunale, con un solo candidato sindaco, hanno avuto i due centri sorti diversi in entrambi i comuni, con una sola candidatura sindaco presentata, era necessario infatti che si recasse ai seggi la metà più uno degli elettori aventi diritto. A Fraine arriverà il commissario prefettizio, non ce l'ha fatta infatti il candidato sindaco Filippo Stampone di Uniti per cambiare Fraine, infatti non è stato raggiunto il quorum degli elettori perché la percentuale di chi si è recato al seggio è stata solo del 25,07%. A Tufillo invece è stato eletto Ernano Marco Vecchio della lista civica scelta partecipata a votare, in questo caso è stato il 53,97% degli elettori. E noi ci spostiamo in provincia dell'Aquila, in particolare in Valle Peligna, per andare a vedere quello che è accaduto a Sulmona dove le operazioni di spoglio sono proseguite per tutta la giornata anche con una certa lentezza, infatti secondo i dati forniti dalla Prefettura la cittadina Peligna è stata una degli ultimi centri italiani a ultimare le operazioni di scrutinio. Vediamo nel servizio cosa è accaduto. E dunque ballottaggio a Sulmona tra Anna Maria Casini, candidato sindaco della coalizione Noi per Sulmona e Bruno Di Masci, candidato sindaco invece del raggruppamento, la città che vogliamo. Sì, abbiamo tenuto un risultato strepitoso, io ringrazio la città di Sulmona che mi ha voluto tributare questo grande onore e far raggiungere questo risultato. Ho un gruppo fortissimo, una coalizione fantastica, insieme siamo andati ben oltre le nostre aspettative perché comunque insomma avevamo già chiaro che saremmo stati quelli in vantaggio. Ripartiamo oggi con una campagna elettorale ancora una volta tra la gente e per la gente, io sono donna di squadra, porteremo il nostro gruppo il 19 a vincere queste elezioni e quindi io con loro, con la mia squadra e con Sulmona riporteremo questa città al massimo dello splendore possibile, così come merita. La partita è assolutamente aperta, apertissima e credo che possiamo farcela. Quali sono gli obiettivi da tenere sicuramente ancora in considerazione, da proporre agli elettori in questi 15 giorni che precedono il ballottaggio? Innanzitutto far uscire Sulmona dall'isolamento e nello stesso tempo cercare di tutelare i servizi, quindi l'ospedale, il tribunale, ma soprattutto fare una roadmap sotto l'aspetto economico perché Sulmona deve uscire assolutamente dalla crisi economica in cui si trova. Noi restiamo in provincia dell'Aquila e nel servizio di Giorgio Alessandri andiamo a vedere cosa è accaduto in altri comuni, fra cui torno in parte. 29 nuovi sindaci eletti nella provincia dell'Aquila. A Dalfedena il sindaco eletto è Massimo Scuro, a Bisegna Antonio Mercuri, a Calasso Ludovico Marinacci è il nuovo primo cittadino, a Campotosto invece Luigi Cannavici, a Canistro Angelo Di Paolo, a Capitignano è stato confermato l'uscente Maurizio Pelosi, a Carapelle Calvisio resta in poltrona Domenico di Cesare. A Castelvecchio Calviso invece, comune che era eletto da un commissario Rinaldo Pezzoli, l'eletto è Luigi Nantonacci, anima di molte associazioni culturali del territorio. A Cerchio è stato confermato Gianfranco Tedeschi, mentre a Civita Dantino sarà ballottaggio tra Sara Cecchinelli e Antonio Di Francesco. A Civitella Roveto eletto Sandro De Filippis, a Cocullo Sandro Chiocchio. A Fossa il nuovo sindaco è Fabrizio Boccabella. A Ofena retta da un commissario il nuovo sindaco Antonio Silberi. A Ortuna De Marzi confermato Manfredo Eramo. A Ortucchio sarà ballottaggio tra favoriti e l'uscente d'Aulerio. A Ovindoli Angelo Sante è il nuovo primo cittadino. A Pereto sarà sindaco Giacinto Sciò. A Prezza Marianna Scoccia, ex assessore provinciale, è il nuovo primo cittadino. A Rivisondoli l'uscente Ciampaglia è riconfermato, a Roccaraso è riconfermato di Donato. A San Vincenzo Valleroveto resta sindaco Giulio Lancia e anche a Scontrone conferma per il Leana Schipani. A Scurcola eletta Mario Limpia Morganti, a Secinaro eletto Bernabei. A Tagliacozzo Maurizio Di Marco Testa cede lo scranno più alto a Vincenzo Giovagnorio. A Torni in parte eletto Giacomo Carnicelli e a Villalago confermato Fernando Gatta. Il servizio riepilogativo della provincia dell'Aquila, dei comuni più importanti, era di Daniela Rosone. Noi ci spostiamo in provincia di Pescara. Fra le sorprese è quella più grossa e arrivata da Penne dove c'è stata la sconfitta del centro-sinistra. Infatti per una manciata di voti Mario Semproni è il nuovo sindaco del centro in provincia di Pescara. Il centro-vestino, la sua lista, Penne Viva, vicino al centro-destra. Infatti ha ottenuto 2.746 preferenze con una percentuale del 35,28%. Solo 70 in più del Movimento 5 Stelle fino all'ultimo. Infatti è stato testa a testa con il candidato grillino Luca Falconetti che si è fermato a 2.776 preferenze con il 34,38%. De Bacle per il candidato della lista Penne Valle e Nio Napoletano, vice sindaco uscente del centro-sinistra che si è fermato a 1.933 preferenze con una percentuale del 24,83%. Per quanto riguarda invece Manopelo, altro centro in provincia di Pescara, si è affermata una lista civica sostenuta tra l'altro dal centro-destra con la vittoria di Giorgio De Luca, uniti per Manopelo che ha ottenuto 1.807 preferenze con una percentuale del 41,86%. A Popoli, altro centro in provincia di Pescara, c'è stata la conferma del sindaco uscente Concezio Galli che si è confermato con il 56,29% e con 1.771 voti ottenuti e ha battuto il candidato espressione del centro-destra Mario Lattanzio che ha avuto il 25,58% di voti e 805 preferenze. E ora nel prossimo servizio andiamo ad ascoltare il commento su questa tornata elettorale del governatore della regione Luciano D'Alfonso. Sono dispiaciuto di non essermi candidato sindaco in qualche città perché quando ci sono le candidature mi emoziono molto e credo di dare luogo anche ad una bella espressione di forza. Ci sono dei dati che sono interessanti, incoraggianti e dei dati che sono problematici. I dati incoraggianti fanno riferimento all'espressione di voto sul Lanciano a favore di Pupillo. C'è un risultato di eccellenza nazionale, sembra quasi un risultato kennediano a Francavilla con Antonio Luciani che non è che viene rieletto, viene messo lì come un imperatore, viene riconfermato come un imperatore. C'è un risultato significativo, interessante a Roseto dove un giovane avvocato ha saputo ridare la forma della scarpa, la sorte del Partito Democratico a Roseto e io naturalmente gli faccio pieno riconoscimento e c'è anche un'affermazione carica di aspettative, di speranza avvasto con il giovane Francesco Menna. Poi c'è una specie di armageddon a Sulmona dove scompaiono centrodestra e 5 Stelle, si riducono a un quarto di un diritto di tribuna, cioè entrambi non mettono insieme un posto al diritto di tribuna. Tutta la rappresentanza politica viene presa dalla giovane e mi pare vincente Casini e dal saggio esperto consolidato Bruno Di Masci, insieme credo che abbiano l'80% dei voti. Dopodiché ci sono delle realtà minori che per quanto mi riguarda suonano come una specie di lezione educativa, c'è il caso di Penne dove 20 anni di governo hanno prodotto forze e stanchezza e lì c'è bisogno di riseminare e di ricominciare. C'è un voto di conferma a San Giovanni Tiatino del quale noi dobbiamo assolutamente prendere atto, la riconferma popoli era scontata. Qual è il voto di tendenza che viene in Abruzzo? Sostanzialmente nei grandi centri c'è l'affermazione del centro-sinistra, nelle piccole realtà c'è stata voglia di rinnovamento. Per quanto mi riguarda dobbiamo continuare a lavorare, a seminare e soprattutto a fare quello che Primo Mazzolari ci diceva, dobbiamo imparare a fare opposizione a noi stessi. Il risultato è secondo lei un segnale indicativo che si può riflettere sul suo governo regionale? Assolutamente no, io non vedo di candidarmi, avevo chiesto di essere candidato in qualche comune, non mi hanno gradito, mi volevo candidare a Francavilla come consigliere comunale. Mi candiderò alle prossime elezioni con la Pescara come consigliere comunale, se mi vorranno. Noi chiudiamo questa doverosa ed ampia pagina dedicata ovviamente alle elezioni amministrative in alcuni comuni della nostra regione. Parliamo di cronaca, i carabinieri del comando provinciale di Pescara e del nucleo investigativo coordinati dal maggiore Massimiliano Di Pietro hanno arrestato tre giovani di cui uno minorenne, colpevoli di rapine ai danni di un pensionato invalido. Vediamo il servizio di Francesca Romana Testi. Una banda specializzata in rapina ad anziani, tre i giovani coinvolti, uno di quali minorenne, ad arrestarli i carabinieri del comando provinciale di Pescara dopo la denuncia del fratello della vittima, raggirato inizialmente ed in seguito picchiato. La storia era iniziata il marzo scorso, l'uomo, un disabile, veniva regolarmente derubato della sua pensione di invalidità, 280 euro, spesso una parte, altre volte l'intera somma. Ed è proprio questo dettaglio a fare insospettire il fratello, poiché la vittima, minacciata di ritorsioni, non aveva chiesto aiuto. Questa è una cosa veramente, estremamente squallida. Sono tre persone che si sono così, ecco, hanno acquisito la fiducia di questo disabile, lo hanno circuito e sistematicamente negli ultimi 3-4 mesi, nel momento in cui gli arrivava la pensione, che erano poche centinaia di euro, non esitavano anche a picchiarlo, anche in maniera molto violenta, per portargli via quel poco che aveva ogni mese. Quando poi il fratello disabile gli ha raccontato quelle che erano state le vicissitudini dei mesi precedenti, è venuto subito i carabinieri a denunciare il fatto. Noi abbiamo aspettato il giorno di consegna della pensione e quando sono andati a prendere i soldi, oltre ai soldi hanno trovato anche i carabinieri. A Pescara nell'anno in corso sono 23 i casi di raggiri ad anziani. Spesso le vittime ricevono telefonate nelle quali sedicenti forze dell'ordine avvertono di un familiare in pericolo e del bisogno di denaro per aiutarle. Le vittime prese dal panico cadono nell'inganno e così oggi, alla luce dei dati, parte un accorato appello sulle accortezze da avere per non subire raggiri, soprattutto verso gli anziani. Bisogna denunciare innanzitutto ogni cosa che accade, bisogna fare attenzione a telefonate strane che pervengono a casa con richieste di soldi, non vanno dati, non è con i soldi che si risolve qualunque tipo di problema. Telefonate ai carabinieri, telefonate alle forze dell'ordine in generale, fate anche più chiamate, pretendete personale indivisa che venga a casa, solo così potete essere sicuri di avere di fronte un vero carabiniere. Cambiamo pagina, sta arrivando in questi minuti a Pescara la salma di Alessandro Angelucci, il pescarese di 34 anni, morto lunedì scorso in Turchia in un incidente durante un'escursione, la Camera Ardente si potrà visitare nella serata e poi nella mattinata di domani, resterà aperta fino al pomeriggio, precisamente alle ore 16.30, quando si terranno i funerali del 34enne ricercatore universitario pescarese, funerali che si svolgeranno nella cattedrale di San Cetteo di Pescara. Siamo al calcio per parlare del Pescara, Pescara che ha battuto nella gara di andata della finalissima promozione il Trapani per 2-0. Oggi sono arrivate le decisioni del giudice sportivo, fermato per una giornata scozzarella della formazione siciliana, 3.000 euro di multa alla società Bianca Azzurra. Andiamo a vedere nel servizio a rivivere insieme le emozioni della gara, giocata ieri sera allo Stadio Adriatico. Con una prestazione entusiasmante il Pescara batte all'Adriatico per 2-0 il Trapani al termine di 90 minuti dominati lungo e largo e che avrebbero potuto regalare anche un punteggio ancora più rotondo, tanto netta è stata la differenza di valore in campo fra le due squadre nella gara di andata della finalissima playoff. Grande l'entusiasmo del popolo Bianca Azzurra al 91esimo con Massimo Odweil e Presidente Sebastiani che fanno però bene ad invitare tutti alla prudenza in vista della gara di ritorno. Ci sarà ancora da soffrire e lottare ma il Pescara, visto non solo questa sera ma in tutta la stagione, ha dimostrato ampiamente di meritare la conquista di un traguardo che oggi è un po' più vicino. In campo vanno le formazioni annunciate alla vigilia. Nel Pescara gioca l'undici titolare con Levian Memoucha in campo per l'ultima volta in stagione. Nel Trapani Pektovic in dubbio alla vigilia è regolarmente in campo affiancato da Coronado. Dirige il figlio d'arte Pairetto davanti ad un adriatico stracolmo. Avvio prudente delle due squadre. Prima emozione al settimo minuto sugli sviluppi di un calcio d'angolo con un rimpallo che favorisce per un attimo la padula e con la palla che però poi termina fuori. All'undicesimo Perticone butta a terra Caprari lanciato a rete con Pairetto che non giudica il fallo del difensore siciliano da ultimo uomo, estraendo solo il cartellino giallo fra le proteste bianca-azzurre. Sulla palla va poi Caprari che mette la sfera di poco a lato dai venti metri. Il Pescara prende decisamente in mano le redini del gioco e al quindicesimo è ancora l'ex romanista prima del limite a concludere al volo senza impegnare severamente Nicolas che poi al diciannovesimo su conclusione ravvicinata di Gianluca la padula dimostra una grande prontezza respingendo il pallone. La squadra di Cerse Cosmi vada soprattutto a contenere con Scozzarella che poi va al ventisettesimo a commettere fallo su un avversario prendendo un primo giallo e poi il secondo per proteste. Per l'ex giocatore del Portogruaro si schiudono così le porte degli spogliatoi con il Trapani costretto a giocare in dieci per oltre un'ora. Al trentacinquesimo c'è un tiro di la padula dall'interno dell'area di rigore con Nicolas che para anche perché la conclusione del Bombard non è irresistibile. Il Pescara ci crede ed il finale di tempo vede ancora il pressing della formazione bianca-azzurra con un tiro centrale di Memushai al quarantaquattresimo prima del doppio fischio di Pairetto di Nichelino che comanda l'intervallo. La ripresa si apre al secondo con il meritatissimo vantaggio dei padroni di casa con un'azione tambureggiante che vede prima la parata di Nicolas su un missile di Verre e poi dopo la respinta del portiere della difesa trapanese la rete di Benalì che sotto misura mette il pallone alle spalle del portiere siciliano facendo esplodere l'Adriatico ed andando ad esultare sotto la nord. La squadra di Massimo Oddo ci crede e al sesto Gianluca la padula non riuscire a controllare il pallone in area siciliana con l'ex Terramano che poi ci riprova anche al decimo con una sassata che termina di poco fuori. Poco dopo la padula tocca invece il pallone con la mano e viene ammonito così come Memushai che al diciannovesimo lascia il campo sostituito da verde e chiudendo così la sua stagione con la maglia adriatica. E proprio il neo entrato al ventitresimo prova un pallonetto dai venticinque metri mettendo la sfera sopra la traversa della porta difesa da Nicolas che poi non può nulla al ventisiesimo quando Gianluca la padula fa trenta segnando il gol del raddoppio con un tiro che non lascia scampo al portiere siciliano. Il Pescara non è pago anche perché gli ospiti sempre in dieci soffrono il terzo gol però non arriva nonostante continui attacchi con l'ultima emozione targata a Torreira e con un tiro del giocatore Uruguaggio al quarantaseiesimo finisce dopo quattro minuti di recupero una gara vincente che ha visto il Pescara portare a casa meritatamente la vittoria fra quattro giorni al provinciale farà molto caldo ma la squadra di Massimo Oddo è pronta alla battaglia. Ed è tutto per questa seconda edizione del TGT a proposito del Pescara vi ricordo come sempre alle 21 come ogni lunedì l'appuntamento con il replay con Enrico Rocchi per parlare proprio delle vicende bianca azzurre alla vigilia di questa gara decisiva di giovedì a Trapani è tutto terza edizione alle 23 buona serata